Hanno segnalato alcuni disservizi al Dipartimento di Salute Mentale i componenti dell'Associazione Liga Bue, specialmente in merito alla lunghezza dei tempi di smaltimento delle liste di attesa per le prestazioni diagnostiche ambulatoriali, smantellamento di strutture e anche problemi nella gestione dei servizi in epoca di pandemia. Sulla vicenda abbiamo sentito il direttore del DSM Massimo Cacciola, il quale nel precisare che sono numerose le unità che fanno capo al Dipartimento, con reparti anche all'ospedale Sant'Elia, a San Cataldo, Mussomeli e Gela, ha spiegato ai nostri microfoni che i servizi vengono sempre erogati e che nessun reparto ha cessato le attività in tempi di pandemia. Alcune difficoltà sono legate alle carenze di personale, anche se recentemente il DSM si è avvalso della collaborazione di psicoterapeuti, psicologi ed educatori e sta proseguendo su questa strada per implementare il percorso basato sull'ascolto delle persone che hanno bisogno di aiuto, invece che seguire solo la strada della terapia farmacologica. Bisogna precisare che il Dipartimento di Salute Mentale, ad esempio nel periodo Covid, ha erogato quotidianamente e costantemente i servizi sia presso l'SPDC, il Servizio per il Dianio Sicura, che è il reparto di psichiatria allocato nell'ospedale Sant'Elia, dove si realizzano sia i ricoveri volontari che i trattamenti sanitari obbligatori. E non abbiamo registrato nel corso dei due anni di pandemia né riduzioni di ricoveri né sospensione delle attività di ricovero stesso. Anche presso la CTA, che è la Comunità Terapeutica Assistitiva dell'ASP, che è a San Cataldo presso l'ospedale Raimondi, ha mai presentato criticità tali che abbiano interrotto l'erogazione dei servizi di assistenza e quindi di ricovero per pazienti psichiatrici. Per quanto riguarda invece le difficoltà lamentate per le liste d'attesa, questo è un problema che abbiamo già riscontrato, perché la carenza del personale specialista, in psichiatria soprattutto, ha determinato un rallentamento delle liste d'attesa. Tuttavia, giornalmente e quotidianamente vengono erogati i servizi di assistenza, anche quella domiciliare. Sono benvenuti。 Sono benvenutiätte una spazia. Non è un ha visto. O che è quello che... Sono benvenuti tra. No ci non lo��so. Grazie a tutti